Cari amici e amiche, benvenuti a questo speciale episodio del nostro canale. Oggi vi porteremo in un viaggio spirituale attraverso una leggenda millenaria, il fiore di loto. Ma prima di immergerci in questa affascinante storia di trasformazione e saggezza, vi chiediamo di fare un gesto che potrebbe sostenere il nostro canale e consentirci di continuare a condividere contenuti significativi come questo. Sappiamo quanto valore date all'ispirazione e alla crescita personale, ed è proprio ciò che cerchiamo di offrirvi qui. Quindi, se trovate valore in ciò che facciamo e desiderate continuare a vedere video che vi ispirano e vi arricchiscono, vi invitiamo calorosamente a iscrivervi al nostro canale. Con il vostro sostegno, possiamo continuare a condividere storie significative e insegnamenti preziosi con voi e con il mondo intero. E ora, senza ulteriori indugi, immergiamoci nella leggenda del giovane monaco Yang e del suo incontro con il fiore di loto, una storia che ci insegna a trovare la bellezza e la purezza anche nelle situazioni più difficili. Buona visione! Molti anni fa, nelle profonde montagne dell'antica Cina, viveva un giovane monaco zen di nome Yang. Yang era noto per la sua profonda connessione con la natura e la sua innata saggezza. Era un ragazzo umile, ma la sua umiltà era radicata in una comprensione profonda della vita e della mente umana. Un giorno, mentre camminava lungo il sentiero del monastero, Yang si imbatté in una palude torbida e maleodorante. Le acque stagnanti erano cosparse di fango e detriti, e i rospi gracchiavano rumorosamente, festeggiando la loro casa fangosa. In quel momento, una foglia di loto galleggiava sulla superficie del fango. Yang si inginocchiò accanto alla palude e fissò il fiore di loto con ammirazione. Era sbocciato tra le avversità, cresciuto in un ambiente così inospitale. Questa visione lo colpì profondamente, e decise di trarne un insegnamento. Il giovane monaco tornò al suo piccolo eremo e decise di meditare sulla lezione che aveva appreso dal fiore di loto. Sedeva in posizione del loto ogni giorno, concentrandosi sul suo respiro e lasciando che i suoi pensieri si depositassero come sedimenti nel fiume della mente. Inizialmente, trovò difficile lasciare andare le sue preoccupazioni e le paure, proprio come il fango che imprigionava il fiore di loto. Ma Yang era determinato a trovare la bellezza e la purezza dentro di sé, proprio come il fiore nel fango. Attraverso settimane e mesi di meditazione instancabile, cominciò a notare cambiamenti nel suo spirito. Le acque torbide della sua mente iniziarono a chiarirsi lentamente, e la sua percezione della realtà si approfondì. Un giorno, durante una meditazione particolarmente profonda, Yang ebbe un'illuminazione. Realizzò che la purezza e la bellezza non erano estranei a lui, ma facevano parte del suo essere intrinseco, proprio come il fiore di loto era nato dalla palude. Era solo necessario superare il fango della mente per rivelare la sua vera natura. Yang emergendo dalla sua meditazione, si alzò e tornò alla palude. Ora, quando guardava il fiore di loto, vedeva un riflesso di sé stesso. Si rese conto che il fiore e il fango erano entrambi una parte integrante dell'esperienza umana. La bellezza non veniva solo dalla purezza, ma anche dalla capacità di trasformare il fango della vita in qualcosa di straordinario. Questo racconto del giovane monaco Yang insegnava una lezione profonda, la vera bellezza e purezza risiedono dentro di noi, ma talvolta sono nascoste sotto gli strati di preoccupazioni, paure e dubbi. Attraverso la pratica della meditazione e la consapevolezza, possiamo trasformare anche le situazioni più difficili in opportunità per crescere e fiorire, proprio come il fiore di loto che sboccia nella palude. Yang condivideva la sua scoperta con gli altri monaci nel monastero Zen. Insegnava loro l'importanza di affrontare le sfide della vita con la stessa determinazione e pazienza che aveva applicato nella sua meditazione. Spiegava loro che ogni momento, anche il più difficile, poteva essere un'opportunità per scoprire la bellezza interiore. La sua lezione iniziò a diffondersi tra i monaci e la comunità locale. Gli abitanti dei villaggi circostanti iniziarono a visitare il monastero per ascoltare le parole sagge di Yang e per imparare dai suoi insegnamenti. La fama del giovane monaco si diffuse attraverso le valli e le montagne come il profumo di un fiore di loto in fiore. Con il passare del tempo, Yang continuò la sua pratica spirituale, ma ora aveva una missione più ampia. Voleva aiutare le persone a trasformare le loro vite, proprio come aveva trasformato il fango della sua mente. Gli affari mondani e il desiderio di fama erano lontani dalla sua mente. La sua unica ambizione era quella di servire gli altri e condividere la saggezza che aveva acquisito. Un giorno, mentre sedeva accanto alla palude, vide un altro giovane monaco avvicinarsi con un volto contorto dall'angoscia. Il monaco era frustrato perché non riusciva a trovare la pace interiore durante la sua meditazione. Yang sorrise gentilmente e disse, Vi è una lezione che ho imparato qui, accanto a questa palude, che potrebbe aiutarti. Yang spiegò al giovane monaco la storia del fiore di loto e condivise con lui l'importanza di affrontare il fango della mente con pazienza e determinazione. Gli disse che la meditazione non doveva essere una lotta per raggiungere la perfezione, ma un processo di accettazione e trasformazione. Il giovane monaco ascoltò attentamente e iniziò a meditare con una prospettiva diversa. Con il passare del tempo, le sue meditazioni divennero più profonde, e lui iniziò a scoprire la pace interiore che aveva tanto cercato. Ringraziò Yang con gratitudine e, a sua volta, iniziò a condividere questa saggezza con gli altri. Così, la lezione del fiore di loto si diffuse attraverso il monastero Zen e oltre. Le persone iniziarono a comprendere che la bellezza e la purezza non erano condizionate dalle circostanze esterne, ma erano una parte intrinseca di ogni essere umano. Attraverso la meditazione e la pratica della consapevolezza, potevano trasformare il fango della vita in un fiore di loto in fiore, scoprendo la vera bellezza e la pace interiore lungo il cammino. E così, la leggenda del giovane monaco Yang e del fiore di loto divenne un simbolo duraturo di speranza e trasformazione per generazioni a venire, ispirando molte persone a cercare la bellezza e la purezza dentro di sé, anche nelle situazioni più difficili. E con questo, giungiamo alla conclusione di questa affascinante leggenda, il fiore di loto. Speriamo sinceramente che questa storia abbia toccato il vostro cuore e vi abbia ispirato a cercare la bellezza e la purezza dentro di voi, proprio come il giovane monaco Yang ha fatto nella sua meditazione accanto alla palude. Prima di concludere, vi chiediamo gentilmente di prendere un momento per sostenere il nostro canale. Se avete apprezzato questa storia e volete vedere più contenuti simili, vi invitiamo a 1. Asterisco asterisco iscrivervi al nostro canale asterisco asterisco cliccando sul pulsante di iscrizione e attivando le notifiche, sarete sempre aggiornati sui nostri nuovi video. Se pensate che questa storia potrebbe ispirare anche i vostri amici e familiari, condividetela con loro. Ci piacerebbe sentire le vostre riflessioni su questa leggenda e sui temi trattati nel video. I vostri commenti sono importanti per noi. Se avete apprezzato il video, lasciate un like per mostrarci il vostro supporto. Con il vostro aiuto, possiamo continuare a creare contenuti significativi e a diffondere insegnamenti preziosi. Vi ringraziamo di cuore per essere parte della nostra comunità e per contribuire a diffondere la saggezza e l'ispirazione. Vi invitiamo a esplorare gli altri video sul nostro canale e a unirvi a noi in questo viaggio di crescita e consapevolezza. Grazie ancora per aver condiviso questo momento con noi. A presto!